Qui chi abbiamo? Il fratellino Aci, il maschietto. Bellissimo lui, ma sfortunato. La vedete questa zampa? Non è soltanto ferita e non è fratturata. Ha una paralisi del nervo radiale. Significa che questo piccolo rischia di perdere la zampa. Guardate come cammina. Ecco, si stanca, si ha già camminato abbastanza. Lui praticamente non riesce a tenere il piedino dritto. Ecco qui, per questo lui si piaga in questo punto. La dottoressa ieri lo ha visitato e ha visto che ha sensibilità soltanto al piede, però tutta questa parte qui, superiore, qui è insensibile. Guardate come la mette il piede. Povero Aci. Speriamo che la recuperi la zampetta. Noi gli faremo fare un po' di fisioterapia se troviamo i soldi. Adesso vediamo. Aci. Amore. Mamma mia, un cane così bello. Guardate quanto è affettuoso. Potrebbe non avere più quella zampa. Potremmo decidere di amputarla se non riusciamo a recuperarla con la fisioterapia. Speriamo che quel po' di sensibilità al piede serva per salvargliela. Aci. Madonna mia. Chi è stato quel cattivo che ti ha investito? Per quanto sono cattivoni quelli che ti hanno portato qui in canile, è anche probabile che abbiano fatto loro manovra. Ecco, guardate come cammina. Aci. Vai dalle sorelline. Tutti insieme. Vi volete tanto bene. Che c'è? Sei triste tu? Eh? Dove ti infili? Dai. Piccolo Aci. Aci. Il più sfortunato ma bellissimo. Ciao ciao. Buona fortuna.